Non si può che parlare di numeri cosiddetti festivi, cioè dati fortemente condizionati dal numero decisamente più basso di tamponi effettuati, ma l'emergenza Covid-19 in Puglia, nonostante Pasqua e Pasquetta, resta su di un livello di guardia importante, specialmente per quel che riguarda i ricoveri. Ma andiamo con ordine, in Puglia scende l'incidenza di casi ogni 100.000 abitanti degli ultimi sette giorni. Ci si attesta 286 rispetto ad una media italiana scesa sino a 211. La regione pugliese è però balzata in seconda piazza in Italia in questa speciale classifica, alle spalle solo della Valle d'Aosta. Quello che non accenna ancora a scendere è il carico invece sulle strutture sanitarie pugliesi, un carico che ben oltre la solia critica imposta dal Ministero della Salute sia per quel che riguarda le terapie intensive che per i ricoveri in reparto. La Puglia conta 250 pazienti Covid in terapia intensiva, pari al 42% dei posti disponibili, mentre per i ricoveri ordinari si sale sino al 52% dei posti letto occupati, pari a 1.988 di quelli disponibili. Lombardia, Piemonte e Marche le uniche regioni che contano percentuali simili o peggiori. Passando alle province invece, Taranto resta in terza piazza in Italia per incidenza, con 361 casi di contagio ogni 100.000 abitanti dietro a Oste Prato, mentre Bari è sesta, 331 appena davanti a Foggia a salita sino a 324. L'abbatti in lieve discese al ventunesimo posto in Italia con 254 casi di contagio ogni 100.000 abitanti, tranne la provincia di Foggia, in realtà sono tutte in discesa, le province pugliesi comprese Brindisi e Lecce. Nell'abbatti in particolare, dopo il picco di tre giorni fa, 290 casi ogni 100.000 abitanti dati in leggera flessione, anche a causa, come detto dei pochi tamponi effettuati. In media sono 140 i nuovi positivi al giorno negli ultimi sette giorni, con una variazione percentuale positiva rispetto ai sette giorni precedenti del 6%, a testimonianza che il virus ha ancora una circolazione davvero molto importante.